Benvenuti a questa nuova puntata di Explora, la TV delle scienze. L'Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione del CNR di Bari ha realizzato un programma informatico per i non vedenti, per capire meglio di cosa si tratta, come funziona questo sistema, abbiamo invitato il dottor Giovanni Attolico, ricercatore dell'Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione, che ha coordinato il lavoro. Allora, un programma particolare per il non vedente. Cosa avete fatto? Al cuore del sistema c'è un dispositivo aptico, cioè tattile, che si impugna come uno stilo e che si muove nello spazio vuoto, restituendo però alla mano dell'operatore le stesse sensazioni che se in quello spazio ci fosse un oggetto reale e lo si sfiorasse con la punta di una penna. Quindi si dà la possibilità di toccare come se fosse reale un oggetto che in realtà è solo all'interno del computer. Però in realtà c'è un programma che poi gestisce questa interazione, quest'uso che viene fatto del dispositivo, che è molto importante. Ecco, facciamo un esempio concreto. Come agisce il non vedente? Il non vedente appunto impugna questo stilo e esplora l'oggetto. Io vorrei usare una similitudine con i vedenti, che i vedenti possono capire. Il non vedente, quando tocca un oggetto, non può toccare con i polpastrelli allo stesso momento tutta la superficie, ma la può toccare soltanto in sequenza, un po' per volta. È come per un vedente se invece di vedere una fotografia tutta insieme, come normalmente si fa, dovesse esaminarla facendo scorrere una finestrella molto piccola, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra. Ci rendiamo conto che sarebbe molto difficile capire il senso dell'immagine che c'è in quella foto, vedendola in questo modo. È il problema che hanno i non vedenti, quando normalmente toccano gli oggetti, anche gli oggetti reali, senza un uso del nostro sistema. Noi cerchiamo di aiutarli perché gli facciamo toccare, non direttamente l'oggetto reale nella sua complessità, ma gli forniamo diversi livelli di complessità crescente in modo tale da aiutarlo a metabolizzare più facilmente questa interazione, cioè a capire meglio quello che sta toccando. E come siete arrivati a quest'idea? Siamo arrivati a quest'idea perché parlando con i non vedenti abbiamo realizzato che avevano delle difficoltà che noi non immaginavamo come vedenti. La difficoltà che noi immaginavamo è che i contenuti digitali che noi vediamo sugli schermi dei computer, per loro non sono accessibili perché loro non possono usare la vista. Mentre non avevamo colto questa difficoltà che loro hanno anche quando toccano gli oggetti reali, legata al fatto che non possono toccare l'oggetto tutto insieme, ma sono costretti a toccarlo in maniera sequenziale, cioè un po' per volta. E questo programma è già stato usato dai non vedenti? Sì, diciamo che noi abbiamo fatto diverse esperienze e abbiamo fatto dei risultati molto confortanti. Intanto abbiamo visto che con un periodo molto breve di familiarizzazione con il sistema, quindi una quindicina di minuti nella maggior parte dei casi, loro sono in grado di acquisire tanta confidenza con lo strumento e da essere in grado di capire delle scene anche di una certa complessità. Quindi se ci sono degli oggetti in una scena, come sono ubicati l'uno rispetto all'altro, che forma hanno. Tra l'altro hanno dimostrato un grande entusiasmo nei confronti dello strumento perché l'hanno visto effettivamente come un modo per superare delle difficoltà che loro hanno, quindi un modo per superare certe limitazioni che la loro condizione gli impone. In ultimo abbiamo visto che soprattutto i non vedenti, perché gli ipovedenti tendono a usare il visus residuo il più possibile e non usano molto il tatto, soprattutto i non vedenti hanno una destrezza psicomotoria nell'utilizzare lo strumento che gli permette veramente di tirare fuori il massimo e di usarlo nel modo migliore, quindi veramente diventa un mezzo conoscitivo molto potente nelle loro mani.